È l'associazione Ligabue di Caltanissetta che da 30 anni è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie. Proprio l'associazione chiede un confronto agli attuali vertici dell'azienda sanitaria locale e tramite una nota vuole sapere se ci sia la disponibilità al confronto da parte dell'ente sulle prossime iniziative, sui locali idonei a svolgere le attività associative, sulle strategie per fronteggiare il disagio, sul budget di salute e per sapere se sia stato avviato l'iter per la realizzazione dei progetti terapeutici individualizzati di prese in carico comunitaria, così come disposto dall'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019 numero 17. Contattato il presidente dell'associazione ci ha comunicato che a giorni ci sarà l'incontro richiesto con i rappresentanti dell'Asp sulla vicenda.